L'imperium, a quello che ho capito io, è un rapporto con gli dei. L'elemento dal basso significa, a quel che ho capito, che c'è una città coinvolta, ma non è che vi siano forme di rappresentanza come la intendiamo noi. Cioè, voglio dire, io sono fortemente discontinuista, non mi sento di portare la concettualità, come avete visto, anche molto complessa, anche molto difficile da definire, che ha portato il professor Brizzi, di portarla dentro lo Stato moderno, che è davvero un'altra cosa. E per spiegarci dobbiamo capire questo, dobbiamo distinguere alcune fasi e alcuni modi di esistenza dello Stato moderno. Lo Stato moderno non nasce, non nasce come Stato nazionale, non necessariamente, in ogni caso è lo Stato che forma la nazione, non è una nazione che forma lo Stato, in primo luogo. In secondo luogo, lo Stato moderno nasce empiricamente, sotto il profilo storico, reale, nasce attraverso una nozione di rappresentanza, che non è quella di cui parlava il professor Brizzi, ovviamente, ma non è nemmeno la rappresentanza come la intendiamo noi. Il re di Francia, così ci capiamo subito, un re come Luigi XIV, Stato, non necessariamente Stato nazionale, Stato cristiano, afferma, sa, è consapevole di rappresentare la Francia, ma non perché è stato investito dalla Francia, assolutamente no, rappresenta la Francia davanti a Dio, cioè risponde, e il re di Francia risponde a Dio di quello che fa la Francia, e dunque per questo motivo deve ad esempio perseguitare gli eretici, perché Dio gli chiederà conto di questo. Questo è un modo di pensare alla rappresentanza, che non è quello di cui parlava il professor Brizzi, evidentemente, perché ci sono due religioni completamente diverse in ballo, ma non è nemmeno la rappresentanza nostra, come la intendiamo noi a norma di Costituzione, perché nella rappresentanza nostra il rappresentante non risponde di quello che facciamo noi, e al contrario deve rispondere di quello che fa lui il giorno delle elezioni, ecco, e quindi è un universo completamente differente. Che cosa c'è di veramente differente? Beh, due principi, il cristianesimo secolarizzato e l'individuo come nucleo fondamentale della società, che è un'invenzione tutta moderna, oltretutto per via protestante, tipicamente, ma comunque è un'invenzione tutta moderna. L'individuo che per legittimarsi si proclama popolo, cioè quando nella modernità si dice popolo, da una certa fase piuttosto tarda in poi si può intendere il popolo come una nazione, cioè con una certa densità ontologica connessa, ecco. Ma molto più banalmente, agli inizi del razionalismo politico moderno, quando si dice popolo, è un insieme di individui che si fanno forza e pretendono di essere qualche cosa, di contare, dicendo beh, dopo tutto siamo tutti noi. Cioè è un discorso quantitativo che ha come obiettivo assolutamente esplicitato quello che vi è uguaglianza. Uguaglianza di individui atomici, molti, che pretendono di autorappresentarsi. Questo è lo Stato moderno nella sua origine teorica, cioè Hobbes. E lo Stato moderno dopo un lungo periodo, quando diventa Stato come minimo liberal costituzionale, come minimo, e in mezzo, perché ciò avvenga, è necessario che venga rovesciata la figura storica che invece c'era, cioè lo Stato moderno, non nazionale, non necessariamente nazionale, fondato sul concetto di rappresentanza di Luigi XIV. Ecco, cioè alcuni elementi, molti elementi materiali necessari all'esistenza dello Stato moderno sono stati accumulati in una logica statuale, ma non nazional rappresentativa. Cioè, minimo perché ci sia uno Stato ci vuole un territorio, una popolazione, un centro di potere, un sistema anche primitivo di burocrazia, cioè di comando, attraverso il quale il monarca interviene nelle periferie e toglie nelle periferie potere politico ai nobili locali. Perché se non c'è questo processo, non nasce lo Stato. Questo processo è un processo molto differenziato sotto il profilo storico e geografico, nel senso che avviene in un certo modo in Inghilterra, avviene in un certo modo in Spagna, avviene in un certo modo in Francia, non avviene mai in Italia, avviene in un certo modo in Russia, insomma, avviene in modi diversi. Però questo processo di centralizzazione e di distruzione del potere nobiliano, sostanzialmente, attenzione, potere politico nobiliano, non potere economico, non privilegi giuridici, no, potere politico. Se non c'è questo non si comincia neppure. Ma questo processo non è sufficiente a che noi possiamo parlare di uno Stato come noi e voi, mi immagino, pensate quando ne parlate. E' necessaria la rivoluzione francese, cioè è necessaria che a un certo punto si dica basta con il rappresentante davanti a Dio, non c'è niente da rappresentare davanti a Dio, siamo noi che ci autorappresenta, è la nazione che si autorappresenta, che si dà una legge fondamentale e quindi è una nazione che proclama se stessa come soggetto politico fondamentale, certo, nazione con la N maiuscola, tutto quello che volete. Poi, se andiamo a vedere, è fatta di individui. Cioè l'idea di fondo è la nazione è la legittimazione, ecco, ma il modo normale di funzionamento è il diritto civile, dove c'è i diritti più o meno naturali, più o meno civili dei cittadini, i diritti dei cittadini garantiti dal potere politico dello Stato che si traduce in capacità di produrre leggi, leggi uguali per tutti, finalmente, e di farle rispettare. Ecco, questo, ma qui c'è il recupero, anche se i rivoluzionari francesi non lo sapevano, c'è proprio il recupero della struttura logica del razionalismo politico moderno degli inizi, cioè di Hobbes, sostanzialmente. Cioè il sovrano ce lo facciamo noi, non lo troviamo già fatto, e ce lo facciamo noi attraverso il patto, tra di noi, non con lui, non ha senso fare un patto con lui, lui non c'è prima del patto. Lui nasce dal nostro patto, di singoli individui fra di loro che nell'atto in cui fanno il patto diventano cittadini dello Stato sovrano rappresentativo. Vi dicevo, perché questo esiste, ci vuole l'idea che c'è il soggetto uguale, che è l'essenza della politica, il mattone fondamentale della politica, il soggetto uguale. E poi ci vuole il cristianesimo secolarizzato. Ci vuole l'idea che questo mondo non è abitato dalla divinità, mentre a Roma il mondo era abitato dalle divinità. era teologia civile nel senso storico del termine, quella di Roma. Noi invece crediamo che Dio sia nei cieli e che sia sempre più, e tanto più passa nei secoli, quanto più crediamo che il suo essere nei cieli ci coinvolga sempre meno. E crediamo che tutto ciò sia il cristianesimo, cioè il cristianesimo come la religione che dedivinizza il mondo. Questa è l'essenza del cristianesimo. La dedivinizazione del mondo, cioè togliere al mondo ciò che resiste, perché poi questo vuol dire togliere al mondo le qualità, ciò che resiste alla manipolabilità, alla capacità umana di manipolare il mondo. Noi abbiamo trasformato il cristianesimo in una dottrina universale dei diritti umani, in una idea universale della necessità della convivenza civile, pacifica. Ma non crediamo che Dio sia il fondamento della politica. Questo lo credeva Dante, beato lui. Poi naturalmente davanti al disordine diceva che il disordine è il peccato. Noi partiamo dall'idea che c'è il disordine e che al tempo stesso c'è una promessa o esigenza di neutralizzazione, di conciliazione, e questo è ciò che resta del cristianesimo politicamente. Poi ciascuno nel suo cuore lo vive come vuole, se vuole, e poi esiste una capacità sociale della chiesa, ma questo è un altro discorso. Stiamo parlando di strutture logiche immanenti alla politica. Il Stato moderno ha bisogno di cristianesimo secolarizzato, cioè ha bisogno di una crisi, nasce da una crisi, le guerre civili di religione, quando il nome di Dio non è più il nome della pace. Non si può più dire siamo tutti fratelli in Dio perché di Dio, Dio si dice in troppi modi e sono tutti nemici l'uno dell'altro e l'Europa si ammazza per 150 anni e allora bisogna trovare un Dio in nome del quale nessuno si ammazzi, cioè un Dio talmente esile, talmente svuotato, talmente di poche pretese e al tempo stesso talmente cogente da far sì che egli sia capace di produrre, di essere la legittimazione originaria della pace e non motivo di guerra. Questo Dio, storicamente è il Dio del deismo, è il Dio orologiaio, è il Dio che crea il mondo, gli dà delle leggi e poi si ritrae e lo lascia funzionare, è il Dio che dà ai suoi tre figli i tre anelli diversi e il scopo dei tre figli è capire che quei tre anelli diversi gli ha dati appunto Dio e che loro sono tre fratelli figli dell'unico padre. Questo che per noi diventa la dottrina dei diritti umani. Cioè, questa teologia politica svuotata è necessaria perché ci sia lo Stato moderno, che è al tempo stesso una teologia politica dei diritti umani e l'idea che lo Stato è la struttura sovrana da noi costruita, che rappresenta noi, che non ci precede, non ci precede, rappresenta noi e serve a farci stare in pace e a garantire i nostri diritti. Come vedete è un universo completamente diverso da quello di cui parlare il professor Abrizi. Ovviamente ci mancherebbe pure che non ci fosse stata una, non dico evoluzione, ma un cambiamento in un paio di millenni. È un mondo diverso con una concettualità diversa. Lei diceva auctoritas. Beh, dal punto di vista dell'auctoritas, della quale per anzi il professor Abrizi non ha parlato comunque, l'età moderna comincia con la lotta contro l'auctoritas. È il grande nemico, il principio d'autorità, cioè è qualche cosa che preesiste. È il principio paterno. Viene da augere, vuol dire far crescere. Noi pretendiamo di nascere adulti e di non aver bisogno di nessuno che ci faccia crescere. Contro il paternalismo, contro l'idea che qualcuno si prende cura di noi, di qualcuno risponde di noi. Noi rispondiamo di noi stessi. Altro che auctoritas. Noi conosciamo solo la potestas e, se vogliamo adoperare quel concetto, imperium, assolutamente, non nell'accezione che abbiamo sentito poc'anzi, ma nell'accezione di potere militare che diventa potere anche territoriale. ma nel senso moderno del termine, sono coordinate concettualmente diverse. i giochi dentro la modernità si giocano fra una modernità empirica a prevalenza monarchica, cioè il monarca preesiste alla nazione, concetto dinastico, il principio d'autorità fatto valere al congresso di Vienna. Concetto poco fruttuoso che copre, però, vi dicevo, delle realtà di accumulazione, di centralizzazione del potere che sono, comunque sia, indispensabili a che esista materialmente uno Stato. Poi c'è, vi dicevo, l'elemento di rottura rivoluzionaria quando si dice basta, il sovrano non è lui, il sovrano siamo noi e siamo noi nella misura in cui noi costruiamo noi stessi come sovrano. Questo che sembra un concetto difficile è facilissimo. Noi costruiamo noi stessi come sovrano quando affermiamo la volizione dell'universale. Cioè, quando ciascuno di noi contemporaneamente agli altri dice non voglio più vivere come un individuo che pensa soltanto a se stesso ma voglio vivere all'interno di un corpo politico collettivo costruito da noi stessi. Questo lo facciamo due volte. Prima volta nel momento del potere costituente che è una rivoluzione. Quando tagliamo la testa a qualcuno che ha voluto essere sovrano al nostro posto. E tutte le volte che andiamo a votare. Quando andiamo a votare in linea teorica noi stiamo dicendo usciamo di casa come borghesi e entriamo nella cabina elettorale come cittadini esprimendo un voto che è al tempo stesso particolare per quanto riguarda gli interessi che cerchiamo di interessi legittimi che cerchiamo di veicolare attraverso quel voto. ma che è universale nel momento in cui noi attraverso le elezioni politiche generiamo una istituzione sovrano-rappresentativa il Parlamento alla cui volontà saremo obbedienti anche se il nostro partito ha perso le elezioni. Perché lì parla la legge del sovrano che è un sovrano rappresentativo che funziona empiricamente a maggioranza non essendo un singolo soggetto. Questo è purissima teologia politica è la teologia politica moderna cioè è la costruzione di un universo di legittimazione diciamo così strategica. Noi pensiamo che si debba vivere uniti neutralizzando il conflitto noi pensiamo che si debba vivere uniti ciascuno di noi facendo due cose a perseguendo i propri interessi individuali b volendo l'universale e questa è una legittimazione strategica la quale non pensiamo mai perché la diamo per scontato. Poi ci sono legittimazioni più corpose legittimazioni che appunto ci siamo inventati nel corso ma stiamo parlando a questo punto dalla fine del settecento oggi cioè pochi minuti della storia universale legittimazioni più corpose che ci siamo inventati o che abbiamo pensato siano indispensabili per dare un po' di verve a questa struttura che vi ho esposto cioè la legittimazione non soltanto della volizione dell'universale in senso astratto ma la legittimazione data dal fatto che l'universale c'è già in natura si chiama nazione e che si tratta di esprimerlo attraverso lo stato oppure la legittimazione fondata sul fatto che l'universale esiste già in potenza dentro la società ed è la classe universale del proletariato queste sono le due grandi legittimazioni che abbiamo come dire messo in primo piano in qualche modo sostantive per per occultare per non per non lasciare sola la legittimazione strategica teologico politica chiamiamola che è quella della necessità della produzione di unità per evitare la guerra civile e per implementare i diritti dei singoli come vedete abbiamo proprio sono orizzonti completamente diversi che rispondono a esigenze storiche diverse a strutturazioni della società completamente diverse a idee della religione completamente diverse e e ciò è assolutamente ovvio e non ci vedo niente di di strano tra l'altro sotto il profilo storico la parola impero ha dato origine cioè è venuta a significare in età moderna una configurazione di potere reale e tuttavia più debole rispetto a quella dello Stato un impero è qualche cosa di più più articolato al proprio interno e alla fine o diventa come uno Stato conserva il nome di impero ma diventa di fatto come uno Stato oppure è una configurazione di potere nemica dello Stato cioè l'impero asburgico alla fine poteva chiamarsi impero quanto voleva però cercava di assumere le modalità di funzionamento di uno Stato di uno Stato plurinazionale e infatti era percorso da questa grande contraddizione per cui c'era un'unità che tutte le mattine veniva salutata da l'inno che gli augurava la buona giornata e la lunga vita cantato in undici lingue diverse questo è un impero oppure l'impero zarista poraccio cercava di funzionare come uno Stato poi non ci riusciva ma insomma cercava di l'impero tedesco era una bella complicazione sotto il profilo del diritto pubblico cioè il secondo impero quello di Wismar che insomma una discreta complicazione sotto il profilo del diritto pubblico ma insomma chiunque lo percepiva come uno Stato mentre invece l'impero inteso come sacro romano impero non a caso è stato deriso e distrutto dall'esponente più tipico della statualità moderna cioè da Napoleone il quale curiosamente ma forse non tanto perché nella parola impero c'è un plus valore di legittimazione enorme in realtà per cui uno come Napoleone prende uno Stato che si sta formando attraverso la rivoluzione e alla fine della rivoluzione esce uno Stato infinitamente più funzionante meglio funzionante più accentrato dello Stato che era entrato nella rivoluzione uno dei principali veicoli di questa trasformazione di iperstatualizzazione della Francia è Napoleone il quale deride e distrugge il sacro romano impero perché non contava più niente perché non esisteva sostanzialmente e perché comunque si rifaceva a un principio di legittimazione premoderno ecco e poi prende il nome di imperatore non della Francia ma dei francesi che significa qualche cosa perché sotto la vicenda dello Stato moderno sotto la legittimazione trascendentale teologico-politica sotto la legittimazione materiale della nazione della classe c'è sempre l'individuo ed è questa io penso la differenza strategica rispetto al mondo antico che l'individuo lo capisce lo conosce ma non ne fa il cuore della non vorrei che voi deste una lettura della globalizzazione come minimo come minimo ormai attardata cioè l'idea che questo pianeta è governato è un impero liquido governato da elite aristocratiche in questo caso di soldi questo è il wishful thinking di quelle elite ma la realtà ma non dico i popoli in armi contro l'elite no no dico la realtà empirica ci dice un'altra cosa ecco cioè vorrei ricordare che esistono dei soggetti definiti determinati della politica internazionale al giorno d'oggi e non sono le elite economiche mondiali sono quelli che io chiamo i grandi stati per non adoperare la parola impero che è sovraccarica di plusvalore storico che in questo caso mi è inutile insomma grandi stati cioè delle formazioni politiche che al loro interno sono a volte nazionali a volte plurinazionali al loro interno sono unitarie o più spesso federali ma non importa assolutamente nulla sono un soggetto politico sovrano che proietta una potenza all'esterno questa è e facendo ciò questi soggetti sostanzialmente piegano orientano indirizzano i flussi mondiali dell'economia i flussi mondiali del commercio le catene mondiali del valore e si fanno la guerra economicamente con le sanzioni si fanno la guerra con i vaccini si fanno la guerra con tutto a parte le bombe atomiche che è già un bel passo avanti ma insomma non è che stiamo vivendo l'epoca dello spazio liscio oppure l'epoca del neofeudesimo con i grandi soggetti internazionali di portate internazionali che sono opachi non politici questi soggetti ci sono ci provano ci sono e ci provano ma insomma come minimo incontrano l'esistenza di conglomerati di potere che hanno ancora una vaga attinenza con la politica cioè dopotutto conta di più il segretario generale del partito comunista cinese di Zuckerberg tant'è vero che Zuckerberg in Cina non ci arriva conta di più il presidente degli Stati Uniti dei padroni di Google o di Bill Gates certo che ci provano certo che ci provano a contare più loro però alla fine finora diventano loro le pedine di un gioco politico certo un gioco politico che deve fare i conti col fatto che esistono questi soggetti e che anzi cerca di trasformare questi soggetti in una funzione del proprio potere più o meno è sempre andata così in età moderna cioè c'è un'alleanza fra il capitale e la politica un'alleanza in cui di solito è la politica che comanda che comanda assecondando aiutando spingendo la proiezione di potenza del capitale ma ai propri fini non siamo usciti dalle logiche moderne del commercio e della cannoniera abbiamo soltanto cambiato le modalità in cui queste dinamiche si esplicano ma non c'è solo il commercio non è vero a parte che se ci fosse sarebbe in ogni caso produttore di diseguaglianze è stato produttore di diseguaglianze così mostruose che quelle diseguaglianze cioè la geoeconomia hanno valenza politica cioè la globalizzazione intesa come libero di spiegarsi della potenza del capitalismo non è uniformazione del mondo è gerarchizzazione del mondo a certe zone si dice bene tu mi servi perché mi produci materie prime produce materie prime attraverso le mie imprese che vengono da te prendono i tuoi cittadini li mettono a lavorare in miniera gli danno un dollaro alla settimana e tirano fuori tanti bei diamanti questo è oppure tu mi servi perché mi fornisci mano d'opera oppure tu mi servi perché mi fornisci un mercato in cui io posso immettere i miei prodotti anche solo la logica economica è una logica di gerarchizzazione è una logica estrattiva è una logica di espulsione voi questa zona mi serve libera da persone vinando via oppure qui da voi vengo a impiantare l'impresa più inquinente della storia e se morite a migliaia mi dispiace ma neanche tanto perché un'impresa che non posso più tenere a casa mia perché quei rompiscato degli ecologisti impiantano grane tutti i minuti cioè voglio dire tutto ciò è pure economia ma oltretutto non è vero che al mondo esiste solo l'economia perché esistono dei centri di potere che prima di morire cercano di vendere carne alla pelle per cui il governo degli Stati Uniti prima chiede gentilmente poi ordina a Apple di fare certe cose se Apple disobbedisce compra un hacker israeliano e che gli sfonda i codici di Apple e la legittimità è tutta sul governo degli Stati Uniti e non su Apple non parliamo di un grande Stato come la Russia non parliamo di un grande Stato come la Cina non parliamo di un grande Stato che è piccolo ma è grande come Israele non parliamo di un grande Stato come la Turchia sono dei soggetti che fanno della buona vecchia politica di potenza non è vero che la globalizzazione è in un spazio liquido ma dove è liquido gli ultimi che ci hanno creduto che fosse uno spazio liquido erano i terroristi che dicevano noi andiamo attraversiamo i confini portiamo il conflitto ovunque e nessuno ci può fermare non è vero sono stati fermati ci vuole l'analisi del presente dovrebbe essere un pochino più determinata e quando vi prego quando dite Stato non aggiungete la parola nazionale perché è un accidente in sostanza che lo Stato sia nazionale è quello che hanno voluto le borghesie europee dell'Ottocento o detto in un altro modo è quello è la prima mossa che fa lo Stato per legittimarsi visto che non può venire a raccontare la storia della legittimazione trascendentale attraverso la teologia politica svuotata perché non si fa la prima cosa che si dice è beh noi siamo una nazione cioè noi preesistiamo alla politica però abbiamo assolutamente bisogno di darci una configurazione politica questa è la nostra mission le logiche dello Stato possono valere anche in realtà plurinazionali la logica dello Stato c'è la rappresentanza cioè il governo della legge cioè la tensione all'unità cioè la esistenza della capacità di proiettare volontà di potenza all'esterno volontà di potenza che può essere egemonia culturale egemonia politica egemonia economica tutto ciò è passato attraverso tipicamente è passato attraverso la forma dello Stato nazionale ma ricordiamoci il Stato nazionale è uno Stato che si benché dica che la nazione lo precede per legittimarsi di fatto lo Stato nazionale la crea la nazione la crea ad esempio eliminando l'utilizzazione delle lingue minori uniformando i costumi costruendo traiettorie storiografiche inventandosi la storia della letteratura francese la storia della letteratura italiana cioè sono operazioni di state building che in realtà sono operazioni di nation building cioè è lo Stato che dice beh io sono qui perché ho alle spalle qualche cosa che premeva necessariamente affinché io esistessi e l'Italia è il caso più tipico di questo è uno Stato che arriva avventurosamente 160 anni fa all'unità nella parte settentrionale del paese grazie alla Francia nella parte meridionale grazie all'Inghilterra che si trova ad avere comando politico briganti a parte su un pezzo di Europa un territorio chiamato Penisio d'Italia e deve cominciare a dire che tutta la storia premeva verso questa direzione per cui l'uso di Roma che è stato fatto nel risorgimento e la storia d'Italia come l'hanno insegnata a me probabilmente anche un amico Bresi cioè tutta un Ettore Fiera Mosca e tutte queste le robe qui no cioè se andassimo a vedere la Francia è ancora peggio cioè in Francia nessuno dice la Francia nasce attraverso lo sterminio degli albigesi cosa verissima è tutta una storia di Giovanni d'Arco e robe del genere cioè è normale è lo Stato che crea la nazione ne ha bisogno ne ha avuto bisogno al giorno d'oggi potrebbe anche non averne bisogno di fatto quello che conta è esiste la politica sì esistono nuclei di potere politico sì si configurano come dei grandi stati dove grandi vuol dire estensione grande sì dunque sono sovrani sì andate a spiegare voi alla Cina che essa non è sovrana e che la sovranità è una brutta cosa metà dei nostri problemi nasce dal fatto che noi europei siamo quelli che hanno inventato tutto ciò e che adesso si trovano in mano un prodotto come dire un po' obsoleto perché le piccole dimensioni dello Stato nazionale europeo sono non completamente adatte a stare in questo mondo ma non perché questo mondo è diventato un mondo liquido e noi siamo troppo solidi è vero il contrario è diventato un mondo solido ancora questo noi come europei siamo troppo liquidi cioè l'Unione Europea non è un soggetto sovrano cosa che si vede tutti i minuti certamente abbiamo detto l'individuo certamente abbiamo detto teologia politica desostanzializzata metafisica dell'unità e dei diritti tutto quello che abbiamo già detto l'individuo a sua volta per quanto riguarda la politica ecco è un individuo senza virtù perché l'età moderna comincia con un'esplosione di virtù ma che sarebbe Macchiarelli ma appunto le grandi crisi del Cinquecento fino alla metà del Seicento cioè le guerre civili di religione producono questo abbassamento delle richieste che l'Europa rivolge alla politica l'abbassamento della richiesta la politica non deve più servire a vivere bene ma semplicemente a garantire la vita detto in un altro modo questo significa che l'individuo quando entra in politica è sì animato dall'avolizione dell'universale cioè vuole lo Stato bene ma vuole lo Stato non tanto perché dentro lo Stato egli possa esercitare virtù civiche che non importano più nessuno ma perché dentro lo Stato egli eserciti qualche cosa che gli importa moltissimo cioè la ricerca della utilità lo Stato nasce per garantire la pace e dentro la pace e l'unità che sono poi sostanzialmente una giuridificazione di uno spazio ma ecco dentro questo spazio giuridificato quello che interessa è lo svolgimento ordinato dell'attività economica cioè qui OBS è chiarissimo cioè il leviatano viene eretto viene inventato perché noi possiamo godere dei frutti della nostra industria tutto il resto ecco allora tutto il resto è fuori dal discorso liberale e tuttavia naturalmente tutti ne parlan di tutto il resto nessuno è così malvagio da dirvi le cose come ve l'ho detto io però tutto il resto diventa nebbia diventa qualche cosa che è palesemente non essenziale al funzionamento della macchina questa è l'omogeneità cioè il fatto che tutti siamo d'accordo sul fatto che alla politica non chiediamo più la virtù che la politica è una dimensione d'ordine di sviluppo di aumento della ricchezza semmai chiediamo alla politica di questa è una seconda fase dopo che la politica ha garantito l'ordine garantito la vita garantito l'ordine garantito lo sviluppo della ricchezza altre forze politiche possono chiedere alla politica la redistribuzione e tuttavia noi siamo ben attenti a evitare l'idea appunto dello stato tanto che chiamiamo stato etico ogni discorso che abbia e la parola viene pronunciata con dovuto disprezzo chiamiamo stato etico ogni interpretazione della politica che vada al di là del principio di utilità cioè ogni interpretazione della politica che ci dica guardate quello che state dicendo è vero ma è anche falso cioè è vero che la politica moderna serve a queste cose ma perché una politica possa materialmente esistere e sussistere e fare quello che state dicendo beh ci vuole un sostrato ci vuole un sostrato che non è un sostrato di omogeneità razziale non è un sostrato di omogeneità culturale ma insomma qualche cosa che ci consenta di dire noi senza pensare immediatamente alla politica ecco un noi prepolitico anche se non è vero anche se non c'è mai stato ci deve essere la disposizione d'animo nella città nella città moderna dello stato moderno a a chiedersi ma al di là del fatto che questa persona che sta a mio fianco è un mio concittadino al di là del fatto che è un mio cliente un mio concorrente in affari c'è qualche cosa che ci unisce prima di ciò al di là del fatto che lui paga le tasse come me speriamo al di là del fatto che obbedisce allo stesso codice c'è di leggi che votiamo tutti e due e i nostri i nostri rappresentanti vanno a finire dentro il medesimo parlamento che c'è qualche cosa che ci tiene insieme prima qualche cosa che ci fa esistere anche nel conflitto cioè perché il conflitto sia nel caso peggiore una guerra civile deve avvenire all'interno di una civitas altrimenti è una guerra fra due entità estranee ecco questa non estraneità di cui facciamo fatica a parlare questa non estraneità che non dobbiamo andare a cercare per carità nel sangue e nella razza che non dobbiamo andare a cercare nemmeno nella religione non dobbiamo andare a cercare da nessuna parte però in che cosa consiste sono costumi questo è Hegel no sono l'eticità sono i costumi che vengono sempre più chiaramente ad evidenza come costumi razionali ma guardate tutto ciò è così poco filosofico è così tanto vero che è precisamente quello che fa la differenza e fra gli stati europei pochi dei quali sono dotati di questo di queste precondizioni chi è dotatissimo di queste precondizioni è quella che noi chiamiamo l'Inghilterra che non è certo priva di una storia di conflitti civili ne hanno avuta bizzeffe che appunto è così poco stato che si autodefinisce regno unito perché è fatta di più regni però sono capaci di dire noi centrerà la conformazione geografica cioè il fatto che è un'isola centra il fatto che si sentono di avere una storia in comune la Francia è lo stesso la Francia è uno dei paesi più divisi d'Europa la Francia ha inventato la spaccatura verticale fra destra e sinistra con la rivoluzione francese e se c'è una destra in Europa è quella francese una destra anche alta una destra culturalmente importante e ferocissima ferocissima esiste una destra francese esiste una sinistra francese si odiano fanno le guerre civili però esiste la Francia hanno la storia in comune già la Germania è molto meno molto meno l'Italia non ne parliamo l'Italia non sa di avere una storia in comune non la vuole ce l'ha molto corta la storia in comune ma in ogni caso ne rifiuta ne rifiuta ampie sezioni non reputa importante pensare a una identità storica condivisa che non vuol dire tutta approvata condividere non vuol dire approvare la Germania non se ne parla neanche ma al di là della grande cesura determinata dal nazismo la Germania non aveva una storia comune tutto quello che poteva avere in comune la Germania era l'odio verso Roma la Russia ce l'ha la Russia è una nazione nel senso che anche qui non si sono risparmiati le guerre civili in Russia però hanno un tessuto comune probabilmente in questo caso molto conta la religione non è sono sono stiamo parlando di qualche cosa che non è il prodotto di una azione razionale non è il prodotto dello lo Stato sistematizza e a volte inventa supplice quando inventa e supplice è uno Stato più debole rispetto a uno Stato che sistematizza qualche sedimento storico comune sedimento storico in cui che ci faccia pensare che alla fine delle fini siamo qualche cosa se ci pensate è quello che noi non conosciamo ma noi non lo conosciamo non perché siamo peggiori o inferiori perché di fatto non ce l'abbiamo non a caso quando qualcuno si è accorto che sarebbe stata una buona cosa avercelo parlo del fascismo ma anche prima del nazionalismo risorgimentale poi del fascismo se lo sono letteralmente inventati con risultati buffi quando andava bene tragici quando andava male e talmente insopportabili che ci siamo fatti gli anni migliori della prima repubblica non potendo pronunciare la parola patria però impronunciabile per quelli che hanno l'età di Brizzi e mia quando eravamo ragazzi perché ne avevano tutti fin sopra i capelli della falsa patria questo in Francia non capiterà mai in Inghilterra non capiterà mai negli Stati Uniti non capiterà mai negli Stati Uniti però devo dire con gli Stati Uniti andiamo verso una realtà talmente diversa da quella di uno Stato nazionale che è ingiusto fare il paragone che essi Stati Uniti funzionano come uno Stato per quanto riguarda la proiezione di potenza verso l'esterno ma all'interno sono stati costruiti in un modo talmente unico talmente sui generis che è vietato fare troppi paragoni però pensate negli Stati Uniti che si sono anche loro non si sono risparmiati niente cioè dalle guerre contro i nativi dalle guerre contro gli afroamericani che la schiavitù è stata una guerra contro di loro no alla guerra civile tra gli Stati Uniti per non parlare della guerra di liberazione dal regno inglese la guerra tra i confederati e i federali ma pensate soltanto a che cosa sono i conflitti sociali negli Stati Uniti che vanno sempre a finire nel conflitto raziano e che cosa vuol dire che negli anni 60 dagli anni 60 in poi ogni tanto negli Stati Uniti ci sono le città che bruciano e arriva la guardia nazionale con gli elicotteri e con i carri armati e i morti ammazzati affucilate per le strade e la gente che e i ragazzi che bruciano che bruciano la cartolina precetto e bruciano la bandiera è roba che uno Stato nazionale europeo non la sopporta cioè non è in grado di sopportare negli Stati Uniti la Corte Suprema stabilisce il diritto del cittadino degli Stati Uniti di bruciare la bandiera degli Stati Uniti primo ammendamento allora esistono o non esistono gli Stati Uniti esiste una realtà divisissima l'abbiamo visto nelle ultime elezioni anche se poi alla fine i due presidenti così diversi certe cose le fanno uguali il divieto di esportazione del vaccino Johnson & Johnson l'ha fatto Biden non l'ha fatto Trump certe cose le fanno uguali non solo ma alla fine l'espressione io sono un cittadino degli Stati Uniti e quindi credo nella democrazia la trovate in bocca tanto al leader nero arrabbiato quanto al leader bianco arrabbiato la politica è qualche cosa di estremamente complesso cioè quello che vi ho detto non ha a che fare con strutture politiche esplicite ha a che fare con una storia comune forse perché anche gli Stati Uniti sono un'isola cioè non hanno nessuno con cui dialogare se non se stessi in Europa le cose sono andate diversamente per la maggiore ricchezza della nostra storia per la maggiore complessità della nostra storia per il maggiore policentrismo della nostra storia lo Stato moderno con tutta la sua potenza artificiale supplisce proprio con l'artificio supplisce qualche cosa questo lo diciamo adesso era dietatissimo dirlo quando si credeva nello Stato nazionale lo Stato non suppliva niente lo Stato dava forma figura d'espressione a qualche cosa che non solo era preesistente ma che preesisteva già compatto perfetto aspettava soltanto Cavour e Mazzini venire alla luce non è così non è per l'Italia in altre realtà invece quel preesistere è un preesistere più impegnativo più ontologicamente spesso Beckenfeld quando parla così parla di una Beckenfeld quando parla così parla di una realtà che è quella tedesca dove una realtà quella tedesca dove lo Stato moderno è davvero una invenzione recentissima cioè se lo sono inventati sostanzialmente i teorici dell'Argemeine Statzler a metà dell'Ottocento e dice qualche cosa con un certo rimpianto cioè dice lo Stato di diritto liberale moderno non può essere soltanto le sue strutture giuridiche non può essere deve avere qualche cosa sotto questo qualche cosa non si traduce in strutture si traduce nel fatto che quelle strutture benché siano artificiali ovviamente non lavorano sul vuoto e dunque quando c'è un problema non crolla tutto cosa che può essere detta da uno studioso di diritto pubblico allievo di Karl Schmitt che aveva abbastanza anni per avere visto seppure da giovane il crollo di Weimer eccetera eccetera Egel riesce a teorizzare tutto ciò dicendo vabbè lo Stato è tanto le sue istituzioni quanto la sua eticità interna noi non crediamo più che le istituzioni possano appoggiare sull'eticità e trasmetterla perché ne abbiamo viste troppe perché gli sviluppi soprattutto dell'economia e della tecnica la tolgono la eticità non la mettono tendono a toglierla eticità sarebbe anche il fatto che la cosa che abbiamo fatto questa mattina l'avessimo potuto fare in presenza le strutture le strutture artificiali tolgono la tecnica toglie eticità non non ci possiamo raccontare la storiella che la tecnica ci fa solo del bene su certi ambiti ci fa del bene su altri ambiti ci riduce ma non dico a atomi isolati a un fascio di elettroni però l'eticità non ce la possiamo inventare c'è questo chi ce l'ha se la tenga e chi non ce l'ha pensi a costruirla che sarà comunque sia un processo di generazione perché lì non si fanno sconti l'eticità è l'insieme delle condizioni grazie alle quali si può dire noi anche quando la politica zoppica anche quando la politica la sua capacità di integrazione viene noi stiamo attraversando una fase in cui la capacità di integrazione della politica sta paurosamente vacillando e non so quanto riusciamo a dire noi o quanto invece diciamo si sa di chi può non lo so non lo sa nessuno certo la nave sbanda molto la nave sbanda molto e gli si sa di chi può comincia a risuonare poi speriamo che ci sia la capacità di dire noi anche se magari i ministri non sono non sono perfetti ecco diciamo così